Benvenuti su MeaMedica. In questo video spiegheremo come accedere e impostare una nuova password. Andate su meamedica.it e cliccate su Accedi. Inserite il vostro indirizzo e-mail e password. Se non ricordate la vostra password, richiedetene una nuova. Riceverete quindi un'e-mail con una nuova password. Inserite il vostro indirizzo e-mail e la nuova password. Cambia questa nuova password una volta che sei di nuovo nel tuo account. Inserite la vostra password temporanea insieme alla password che preferite. Impostate l'autenticazione a due fattori per uno strato aggiuntivo di protezione per il vostro account. Speriamo che queste istruzioni siano utili. Avete domande rimanenti? Ci piacerebbe sentire da voi!